Un minuto per te stesso, un minuto per farti capire che a questo mondo non vai bene così come sei Perché se non la pensi come loro, sbagli, è un 6, no è un 9, ma dipende dai punti di vista Quello che fai non gli andrà mai bene, Gordon fai Tentation Island, ma guarda che le donne non sono mica tutte cagne croccantini Oddio Gordon fai video sulle ragazze, ma guarda che non siamo mica tutte occhi e trucchi e make up Oddio Gordon hai fatto un post su due vecchietti in ospedale, ma non ti vergogni a fare queste cose solo per i like Qualsiasi cosa voi facciate non andrà mai bene, ma andrà bene nel momento in cui le farete col cuore, col vostro cuore Perché quello che fate se vi rende felice non è mai sbagliato, è quello che pensano gli altri Ma che cazzo sono gli altri? Fate sempre quello che avete voglia di fare senza preoccuparvi troppo di piacere alla gente Perché tanto non gli piacerete mai, siate sempre voi stessi, nel bene o nel male Perché così non sbaglierete mai, mai